Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Finalmente oggi andremo ad analizzare uno dei bankai più belli all'interno della storia di Bleach e ovviamente sto parlando del bankai di Rukia Kuchiki, la nostra amatissima co-protagonista della storia che per l'appunto è stata protagonista probabilmente della puntata più bella all'interno della seconda stagione della sanguinosa guerra dei mille anni. Lo scontro con Asnot è sicuramente stato secondo me, e poi questo mio parere soggettivo, l'apice di questa seconda stagione un po' come fu il combattimento tra Yamamoto e Roid nella prima stagione per una serie di motivi che in realtà abbiamo già analizzato negli scorsi video analisi del mese scorso anche con l'approfondimento sul video di Asnot che vi consiglio di recuperare. Infatti mi era piaciuto così tanto lo scontro e il personaggio di Asnot stesso all'interno dei Quincy del Van der Reich che nelle ultime settimane avevo parlato principalmente di lui anche perché poi alla fine è un personaggio che è uscito fuori di scena e mi sembrava giusto omaggiarlo dato che è uno dei pochi Quincy che secondo me è scritto davvero davvero bene dal nostro maestro Kubo Di conseguenza oggi torneremo a parlare invece di Rukia, del suo Bankai e questo era un video che volevo fare già da tantissimo tempo Prima di cominciare però a scendere nel dettaglio e parlare quindi di Akkanotogame prendendo in analisi questo bellissimo Bankai vorrei prima fare un excursus sulla storia dei poteri e delle abilità di Rukia fino ad arrivare per l'appunto a parlare del suo bellissimo Bankai Rukia ragazzi sin dalle sue origini, sin dalla sua infanzia è sempre stata un'anima del Rukonga estremamente forte e improntata al combattimento ci ricordiamo quando ancora prima di entrare in accademia Rukia Kuchiki aveva un reiatsu eccezionale e riusciva già a gestire la sua energia spirituale sotto forma di Kido molto meglio dei suoi compagni e anche molto meglio di Renji Abarai ad esempio e successivamente grazie al suo legame di sangue con Isana l'ex moglie di Byaku Yakuchiki fu per l'appunto adottata dal clan stesso in cui ovviamente andò ad imparare nuove abilità, nuove conoscenze sul mondo di Shinigami rendendola per l'appunto una Shinigami tutta ad un pezzo e infatti già all'inizio della storia in realtà Rukia Kuchiki è uno Shinigami estremamente forte l'unico problema è che passando poi alla tredicesima compagnia sotto gli allenamenti del suo caro maestro Kaineshiba Rukia fu sempre tenuta fuori dagli incarichi formali più forti, più impegnativi perché Byakuya, suo fratello, voleva tenerla fuori dai pericoli e questo sicuramente nonostante i suoi ambiziosi allenamenti con Kain o il suo potenziale latente eccessivamente forte non aveva in un certo senso quell'esperienza in battaglia o quelle abilità che le consentivano di combattere in prima linea contro magari Ollo pericolosi proprio perché suo fratello si raccomandava di tenerla fuori dai pericoli e forse questo è anche la, non so, la spiegazione del fatto che Rukia nel primo episodio commette un errore di valutazione estremamente banale perché per salvare Ichiko si butta a capofitto su Lollo quando in realtà poteva ucciderlo magari alle spalle sicuramente il fatto che Byakuya l'avesse sempre tenuta fuori dai combattimenti reali ha fatto sì che Rukia fosse un po' più ingenua in realtà poi ovviamente con il proseguo della storia Rukia nei combattimenti invece sarà estremamente forte e soprattutto estremamente efficace perché sì, Rukia forse non ha mai perso uno scontro probabilmente contro Yami o quegli scontri lì un po' secondari l'abbiamo vista in difficoltà e infatti dopo la riacquisizione dei suoi poteri Shinigami dopo la saga della Soul Society Rukia ci mostra per la prima volta il suo Shikai e la sua Zanpakuto Sodeno Shirayuki e ragazzi questa è la Zanpakuto più bella esteticamente all'interno della storia di Bleach e non lo dico solo io ma proprio all'interno della Soul Society si dice che questa lama di ghiaccio sia la più bella all'interno della Soul Society delle Zanpakuto elementali mentre Itsugaya ha quella più forte Rukia ha sempre avuto quella più bella poi che Itsugaya abbia quella più forte il tempo lo deciderà perché entrambe le Zanpakuto sono in realtà ancora acerbe, immature e avranno sicuramente secoli di allenamento per far sì che diventino forse il lascito di Ryujinjaka in formato ghiaccio chissà in ogni caso, speculazioni a parte Sodeno Shirayuki funziona come una vera e propria Zanpakuto elementale ed ha diverse tecniche ovviamente legate all'elemento del ghiaccio la prima danza infatti dello Shikai di Rukia è il Tsukishiro e fa sì che Rukia stessa riesca a creare un cerchio di ghiaccio che permette di sviluppare una colonna di Reiyatsu che congela tutto ciò che si trova al suo interno in senso verticale e con questa tecnica Rukia riesce ad uccidere una delle fracce on the Grimjo di Roy nel primo vero e proprio scontro di Rukia ragazzi all'interno della storia la seconda danza invece è l'Akuren che fa completamente la stessa cosa soltanto in direzione orizzontale Rukia riesce quindi a creare dei cerchi d'aria congelati per bloccare i propri avversari all'interno la terza danza è quella più interessante perché è la terza danza con cui riesce a sconfiggere addirittura Aroniru Arurueri il nome spada che aveva rubato in maniera così subdola le sembianze di Kaiya Neshiba il suo caro maestro e probabilmente Rukia è riuscita a vincere in quel momento con la terza danza principalmente con l'effetto sorpresa perché questa terza abilità consente alla lama di Rukia anche se rotta di ripristinarsi e quindi di proseguire l'attacco e in questo modo riesce infatti a tagliare la testa di Aroniru Arurueri senza parlare poi che in quello scontro che è uno dei miei preferiti ragazzi non soltanto quello con Asnot ma quello con Aroniru per vari motivi io piango ogni volta che vedo quello scontro per le emozioni che mi lascia soprattutto perché c'è Rukia contro il suo maestro contro il fantasma del suo maestro e contro ovviamente i propri demoni del passato perché sapete bene Rukia si è portata dietro per anni il fardello di avere ucciso il suo amatissimo Kaiya Neshiba quello scontro quindi non solo è sensazionale dal punto di vista emotivo ma ci fa vedere Rukia in quel momento quanto comunque fosse uno Shinigami di livello più alto rispetto al rango che copriva almeno quello di luogo tenente infatti ci mostra tutte le sue tre abilità dello Shikai di quei tempi lì ci mostra le sue abilità di Kido che non abbiamo menzionato prima inoltre senza contare la sua intelligenza sul campo di battaglia che non è una cosa scontata soprattutto per i tenenti del Quotetere dice che molte volte fanno delle scelte estremamente stupide no Renji non sto parlando di te tranquillo in ogni caso Rukia proseguirà i suoi scontri anche nella saga degli Arrancar ad esempio contro Rukudborn in cui ci mostra altre tecniche dello Shikai come il congelamento delle radici che colpivano Arbora che era la Resurrection per l'appunto di Rudborn il capo degli Exequias e poi abbiamo il Timeskip ovviamente dopo il Timeskip nella saga del Furbring quando Rukia torna a ridare i poteri ad Ishiko è già un luogo tenente di carica e poi inizia ovviamente la sanguinosa guerra di mille anni in cui avrà grazie all'evoluzione in corso con l'allenamento insieme a Renji nel palazzo reale di Ichibei il suo massimo potere la sua massima evoluzione di potere perché scoprirà il potere latente eccezionale di Sodino Shiraiyuki e infatti dopo ovviamente lo scontro sanguinoso tra Asnot e Biagoya Rukia tornerà con una consapevolezza estremamente diversa sul campo di battaglia e ripeto lo scontro l'abbiamo già analizzato molto bene nei video passati ora parliamo delle abilità acquisite da Rukia non soltanto il Bankai ma anche lo Shikai cambia radicalmente possiamo ammettere che lo Shikai di Rukia nuovo la vera Sodino Shiraiyuki l'autentica Sodino Shiraiyuki così come la chiama lei è forse uno dei Shikai più forti ragazzi che abbiamo visto negli ultimi tempi perché in un certo senso il corpo stesso di Rukia diventa un'estensione del potere di ghiaccio della lama di Sodino Shiraiyuki e questo lo vediamo quando piano piano inizia ad abbassare la temperatura corporea e questo era ovviamente un rimedio per sconfiggere le fresce intrinse di paura di Asnot congelando i propri resci le proprie cellule Rukia arriva fino allo zero assoluto e lo fa in una maniera estremamente graduale perché è ovviamente un'abilità che mette a repentaglio il corpo stesso di Rukia perché è ovvio è un potere nuovo ha bisogno di secoli forse per arrivare al massimo del controllo un potere così devastante e infatti piano piano quando Rukia scende di temperatura vediamo che ci sono degli effetti sul suo corpo sull'avversario e sull'aria circostante addirittura lei riesce a congelare il flusso sanguigno riesce a creare dei crilosismi ovvero dei terremoti causati dalle molecole che rimangono immobilizzate dal ghiaccio fino ad arrivare alla temperatura assoluta che è lo zero meno 273 gradi in cui ogni forma di luce di cellula o di esistenza viene congelata all'istante questo è molto molto interessante è un potere fortissimo che beh secondo me può in potenza spodestare il potere di Yorimaru ovviamente ragazzi fan di Tsugaya non vi avvelenate contro di me però in futuro un potere così può secondo me arrivare a battersela sul record di potere di ghiaccio della Tutsu Sati ovviamente questa è una mia considerazione non stiamo facendo le gare tra chi è più forte però secondo me è una maniera molto più intelligente in battaglia di utilizzare il ghiaccio ok poi ovviamente non faccio spoiler non entro in quello che vedremo anche su Tsugaya in futuro perché ci sarebbe da commentare magari sarebbe carino fare un video proprio apposito in cui paragoniamo le due abilità in ogni caso torniamo a noi vediamo questo Shikai estremamente forte e non solo plasma il nuovo potere di Rukia ma anche una nuova consapevolezza Rukia è gelida anche nell'animo lo vediamo dal suo sguardo deve battere un avversario temibile deve battere le sue paure e deve vendicare ovviamente il danno che Asnot ha recato al suo caro fratello purtroppo però il suo Shikai non è abbastanza per sconfiggere il terrore primordiale che Asnot riesce a infliggere tramite gli occhi di Rukia con Tatar Foras e in quel momento suo fratello Biakia arriva sul campo di battaglia per aiutarla e salvarla ma non l'aiuta soltanto ragazzi dà a lei la consapevolezza e ovviamente l'obbligo di sconfiggere Asnot come rivendicazione perché molti di voi possono pensare beh Rukia è stata aiutata da Biakia oppure Biakia doveva vendicarsi di Asnot no quello era lo scontro di Rukia perché Biakia ragazzi in quel momento ha un'evoluzione incredibile del suo personaggio dopo tutto quello che ha passato e dopo ovviamente i comportamenti beh molto discutibili soprattutto in merito all'esecuzione di Rukia basati sui suoi giuramenti ovviamente che aveva fatto in passato Rukia ha avuto in un certo senso il suo riscatto nei confronti di suo fratello e Biakia sicuramente ha avuto il modo di apprezzare per la prima volta Rukia come degna Shinigami come degna sorella e come degna donna del clan Cucidi quello è uno dei momenti più belli ragazzi mi si scioglie il cuore ogni volta che vedo quella puntata e Rukia infatti riesce a trovare il coraggio quasi in lacrime così commossa dal fatto che Biakia abbia finalmente accettato e approvato il suo vero potere e quindi suo fratello gli lascia utilizzare il suo bellissimo Bankai H Notogame un Bankai che si dirama in alto che va un po' a ricordare il Bankai di Sasakib se vi ricordate con la colonna elettrica questa colonna di ghiaccio si alza verso il cielo il raggio di azione si espande per centinaia di metri e congela qualsiasi cosa alla temperatura dello zero assoluto e in quel momento ragazzi Rukia si trasforma in una vera dea di ghiaccio perché il suo kimono cambia si espande i suoi capelli diventano bianchi la sua pelle candida e invisibile e la sua lama trasparente ragazzi esteticamente è davvero forse la trasformazione più bella all'interno di Bleach e sembra molto speculare al Mugetsu di Ichigo anche perché vi ricordo che Tsukishiro la prima tecnica di Sodeno Shirayuki è luna bianca mentre il Mugetsu era assenza di luna l'eclissi di luna nera quindi c'è una netta anche contrapposizione di Kubo per legare due personaggi Ichigo e Rukia no? estremamente figo bellissimo e Rukia ragazzi in queste condizioni diventa veramente la personificazione della morte perché lei è congelata è allo zero assoluto ok? quindi è un potere pericolosissimo anche per lei vediamo che se lei mantiene attivo per più di qualche secondo questo Bankai si iniziano a scripolare le mani deve ritornare piano piano alla temperatura corporea attuale ovviamente ci vorranno anni di allenamento per far sì che questo Bankai diventi ovviamente il successore di Zankano Tachi in versione ghiaccio in cui non ci sono danni fisici al proprio corpo adesso ipotizzo una cosa ma immaginatevi un giovanissimo Yamamoto che era alle prese con le sue fiamme sicuramente anche lui rischiava qualcosina per il suo stesso potere di fuoco quindi secondo me con il tempo e con i secoli ci riuscirà Rukia riuscirà ovviamente a diventare una delle Shinigami più forti di tutti i tempi detto ciò ragazzi Rukia beh che dire è un personaggio incredibile e per finire questo video che non doveva essere solo un video analisi in cui commentiamo il potere voglio darvi anche una nuova chiave di lettura per vedere l'evoluzione di Rukia fino a questo momento infatti una delle tecniche narrative di Kubo sicuramente più interessanti sono i foreshadowing e il fatto che lui abbia sempre collegato magari degli indizi presenti all'inizio della storia fino alle fasi finali del manga e ragazzi posso dirvi una cosa se leggiamo ad esempio le frasi di apertura di ogni volume e vediamo soprattutto quelli legati a Rukia possiamo trarre le nostre conclusioni Kubo aveva buttato già degli indizi sui poteri di Rukia e soprattutto sulla sua evoluzione come personaggio perché nel secondo volume che ritrae Rukia beh si cita una delle frasi più famose di Bleach che è gli uomini hanno coraggio perché la morte è invisibile ai loro occhi questa frase è importantissima anche per il finale di Bleach secondo me ma ne parleremo in altre serie ma la morte è invisibile nei loro occhi ragazzi Rukia diventa letteralmente la personificazione della morte invisibile nel suo Bankai è qualcosa di estremamente connesso o se ci pensate un attimo nel volume 30 di Bleach abbiamo Kayen Shiba in copertina a cui è dedicata una frase estremamente incentrata su Rukia quando dice il tuo delitto scarlatto scolorirà con la morte la tua profonda ferita è come gli abissi ovviamente quello è un rimando al suo potere gli abissi dell'oceano l'acqua di mare di Kayen Shiba ma la tua ferita scarlatta scolorirà con la morte il tuo delitto scolorirà con la morte che significa questo che Rukia prenderà consapevolezza delle proprie paure passate del delitto che lei ha commesso ma scolorirà con la morte cosa che farà con il suo Bankai combatterà le sue paure i suoi fantasmi del passato esattamente scolorendo come la sua zapactò come la sua lama che personifica la morte bellissimo ragazzi bellissimo tra l'altro in quel momento Asnot dirà io ho paura di morire davanti a una morte invisibile che è Rukia si ricollega tutto quanto veramente eccezionale ragazzi inoltre nell'ultimo volume d'apertura che ritrae Rukia c'è una frase bellissima che è ovviamente un incoraggiamento nei confronti di Ishivo che dice se puoi ammettere che l'unica cosa che non muta in te è il cuore allora quello è il coraggio e ragazzi questa frase è perfetta per il finale dell'evoluzione di Rukia perché lei accettando il proprio cuore l'immutabilità del proprio cuore rimanere salta sul proprio coraggio lei riesce in questo modo a sconfiggere le proprie paure un po' come diciamo si evince dal dialogo con Rukia e diventerà la donna forte e matura che si è evoluta nel corso di questa storia io sono profondamente affezionato a Rukia perché noi cresciamo insieme a lei cresciamo insieme a Ishigo ma Rukia ragazzi davvero è la personificazione del coraggio quante volte Ishigo è caduto e grazie a lei si è rialzato è ovviamente un rapporto paritario perché Ishigo ha sacrificato la sua vita ha rischiato la sua vita per salvare Rukia ovviamente da morte certa è un'amicizia stupenda quella tra loro due forse una delle più belle nella storia dei manga però ragazzi Rukia è un personaggio che davvero ne ha passate di cotte e di crude è morta sua sorella quando era bambina è stata abbandonata viveva in un villaggio povero insieme a Renji ha visto morire tutti i suoi amici in adolescenza dopodiché viene in un certo senso costretta a essere adottata in un clan gelido freddo inaffettivo trova una vera famiglia una seconda famiglia con Kayan Shiba e lei è costretta ad ucciderlo ad ucciderlo ragazzi una tortura psicologica dopodiché suo fratello cercherà di ucciderla di condannarla a morte vedrà veramente il suo animo in pezzi mille volte eppure lei ritorna sempre più forte di prima più coraggiosa di prima e sempre più buona non si farà mai corrompere dal suo dolore e Rukia ragazzi è veramente l'insegnamento del coraggio del nostro cuore quindi questo era il mio tributo a Rukia spero che il video vi sia piaciuto e lasciate nei commenti i vostri pareri i vostri pensieri fatemi sapere cosa ne pensate se condividete con me questa cosa oppure magari avete non so delle idee diverse sul personaggio di Rukia come sempre vi invito a iscrivervi al canale a mettere mi piace e rimanere aggiornati sul suo Sosat Italia ciao ragazzi ci vediamo alla prossima